Dal giorno di Ferragosto il paese di Pitelli avrà una nuova attrazione. Lo chiediamo al curatore di questa attrazione. Di che cosa si tratta? Si tratta, penso, nella provincia di Spezia sia la prima volta che un privato apre un museo al pubblico no profit riguardante la Grande Guerra. La Grande Guerra nel museo che apriremo a Pitelli ci saranno tre stanze in particolare. C'è una dedicata ai soldati, una alla croce rossa e in esterno la riproduzione di una trincea. Tutti i cimeli, ovviamente originali. Questo perché? Perché, ripeto, mio bisnonno era brigato a Sassari, quindi sono 40 anni che colleziono. E Pitelli ha uno storico molto più profondo. Quando sono arrivato io Pitelli si fermava alla Seconda Guerra Mondiale. Invece abbiamo scoperto che abbiamo avuto anche degli eroi di guerra medagliati d'argento. Io come qualcuno ha partecipato, uno di loro ha partecipato anche con Rizza, la fondamenta della Santo Stefano. Ecco, da lì, quindi, io come mia moglie abbiamo portato avanti questa cosa qui, sino a decidere di aprire, mettere a disposizione del pubblico questa collezione. Il giorno di ferragosto ci sarà non solo l'inaugurazione della mostra, ma parteciperanno diverse enti. L'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini Spezia, il CAE Spezia, che presenterà i nuovi percorsi, tra cui tre giorni anche sul Monte Nero, l'Università della Crusca, un gruppo storico di Verona, che sono degli amici che verranno vestiti con la divisa della Grande Guerra, girando per il paese, spiegando anche ai bambini, alle persone che sono interessate, la divisa, quindi tutto l'affare di allamento che ci avevano. Però, alle 19 ci sarà una cosa molto importante, scusate, alle 18 una cosa molto importante è il posizionamento di una corona da loro sul cipo dei caduti, col presentarmi da parte di questi ragazzi. E alle 21, ripeto, come dicevo, partirà questo, diciamo, seminario dove ci sarà il professor Scaramuccio, che parlerà dell'Università della Crusca, parlerà proprio di Spezia nella Grande Guerra, perché qualcuno, tanti non sanno che Spezia è stato un volano trainante nella Grande Guerra. Cioè, perché la Vickers e altre compagnie, la San Giorgio, compagnie che comunque producevano soltanto materiale bellico. E questo ha portato sia a crescere anche la Spezia per quanto riguarda l'ordine demografico delle persone. Ecco, questo è in sintesi quello che ci sarà il 15 di agosto. È una cosa molto importante, è una cosa che chiedo a chiunque venga, mi auguro che veniate, perché poi rimarrà aperto tutto l'anno, perché questa è una cosa privata, è entrare con lo spirito giusto. Cioè, guardare un icimelio porta dietro una storia di qualcuno. Gli orari d'apertura saranno dalle 18 sino alle 22.30. Il giorno di ferragosto, ovviamente, andremo sino alle 11 e mezzo, mezzanotte. Mezzanotte sarà il tempo massimo, perché poi comunque, anche per non disturbare il vicinato, perché siamo proprio in Piazza degli Orti, siamo al centro di Pitelli. In quali giorni della settimana? Tutti i giorni, tutti i giorni. Nella Locandina c'è anche un mio numero di telefono, perché ovviamente io lavoro, quindi se qualcuno, qualche visitatore vuol venire, magari mi dà una chiamata prima, nei giorni feriali. I giorni festivi io sono lì.